Ci troviamo a Villadino durante l'evento Magical Wedding. Io sono con Roberta Cerrone, titolare di Cerrone Nozze, un'azienda con una lunga storia ed un'importante tradizione alle spalle che ora Roberta ci racconterà. Buongiorno Roberta, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie mille. Cerrone Nozze è un'azienda presente su Roma da circa 30 anni, un'azienda a conduzione familiare che si occupa dell'organizzazione e progettazione di tutto ciò che sono le stationery, coordinati quindi cartacei, oggettistica, pomoniere, confetti e seguiamo personalmente l'allestimento strutturandolo unitamente a tutto il resto dei fornitori che fanno parte del team organizzativo per rendere unico e indimenticabile il giorno delle nostre coppie. Roberta, io ho visto dei prodotti molto particolari in esposizione, noi andiamo incontro anche a un mercato nuovo, giovane, moderno, siamo nell'era cosiddetta digitale, ho visto delle creazioni in plexiglass, quindi come vi siete evoluti, come si è evoluta l'azienda, che tipologia di prodotti propone per un mercato e un pubblico più giovane? Assolutamente, diciamo che nel nostro punto di forza è appunto venire dalla tradizione in assoluto perché mio papà, ormai quasi settantenne, tipografo da circa 60 anni, quindi la storia proprio della stampa. L'ingresso di noi figli, mio e di mio fratello che si occupa della parte del grafica, quindi graphic design, stampe e progettazioni, ha dato sì che nasce appunto questa miscela, questo mix tra tradizione e innovazione, appunto con elementi molto aggiornati come il plexiglass, quindi la struttura grafica e la presentazione di un invito che vuole essere sicuramente da matrimonio, quindi con tutti i punti del Galateo per eccellenza in assoluto, ma in una veste, in una presentazione un pochino più accattivante e innovativa, come ad esempio il plexiglass. Chiaramente si va a contornare di allestimenti e scenografie tematiche rispetto al nostro invito, perché io dico sempre la partecipazione al biglietto da visita del matrimonio, quindi sarà sicuramente uno stupire anche gli ospiti il giorno dell'evento poi. Perfetto, dove vi troviamo Roberta? Allora noi siamo come showroom in zona Trastevere, quindi centrale, nel cuore di Roma e potete seguirci anche ovviamente sui social più conosciuti e vi aspettiamo nel nostro showroom appunto con molto piacere nel cuore di Trastevere. Grazie mille e a presto. Grazie a voi.